Buongiorno a tutti, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, oggi giovedì 23 maggio, ben ritrovati tutti quanti, quest'oggi parliamo di un evento che verrà questo weekend, parliamo di sport, parliamo di una corsa che è tornata finalmente a far parlare di sé e quest'anno mette anche delle novità, stiamo parlando della Stragoredo, e diamo quindi il benvenuto a Roberto Ravizza, buongiorno a Roberto e a Stefano Bianco, organizzatori e promotori anche appunto della Stragoredo Santa Giulia, quest'anno già la prima novità Roberto, si aggiunge un appendice al nome. Esatto, ci siamo raddoppiati, nel senso che il nome si è allungato e non solo il nome, iniziamo magari, ci eravamo lasciati l'anno scorso con una prospettiva su 500 iscritti che erano le maglie che abbiamo preso, che ci aspettavamo, invece siamo rimasti sorpresissimi l'anno scorso con la riedizione appunto della Stragoredo Storica perché abbiamo superato i 700 iscritti, quindi quest'anno ci siamo appunto raddoppiati, abbiamo anche allungato il percorso che da 5 km passa a 6, vigili permettendo e viabilità di Milano permettendo perché in città è sempre difficile riuscire a trovare, allungare le corse senza disturbare troppo tutti e comunque facendo divertire grandi e piccini e quindi sì, Stragoredo Santa Giulia, ci teniamo a sottolinearlo perché siamo un quartiere unico, siamo anche appena stati riconosciuti come nome di quartiere come Stragoredo Santa Giulia e percorreremo tutte le vie più significative, più belle ma anche più problematiche del nostro quartiere. Ecco, allora dicevi anche allungato il percorso quest'anno, allungamento più lungo rispetto all'anno scorso, quanti chilometri fate? 6 km, l'anno scorso 5-6, non vogliamo affaticare troppo tutti, comunque si può venire camminando, si può venire... Bisogna essere degli atleti come te, Alberto, che puoi sempre correre oppure, insomma, anche chi mai fa l'allenamento può permettersi di fare la Stragoredo Santa Giulia? Noi aspettiamo sicuramente tanti appassionati ma sicuramente come l'anno scorso che ci hanno stupito aspettiamo tantissimi bambini e ragazzi anche perché prima della partenza abbiamo organizzato dei momenti insieme, avremo a parte la parte un po' più tecnica perché è interessato uno studio medico, lo studio medico Bersani che ci aiuterà con fisioterapia e per quanto riguarda invece anche la parte di nutrizione, ci saranno giù due stand un po' più tecnici, avremo anche degli liquidatori, dei trainer, quattro trainer che verranno giù per insegnare un po' ai ragazzini cosa vuol dire l'atletica, ci metteranno giù dei coni, ci sarà un po' un'anteprima, un'anteprima sarà anche divertente, accoglieremo le tantissime iscrizioni che sappiamo che arrivano sempre un po' all'ultimo, a partire più o meno dalle 15. Domenica partita dalle 15, poi con partenza della gara alle 17, però consigliamo di venire giù prima, ci saranno anche delle sorprese e ci sarà anche un bel punto di domanda perché quest'anno non abbiamo, l'anno scorso abbiamo avuto un campione storico, una riedizione storica, quest'anno invece abbiamo voluto la novità, abbiamo comunque sempre cercato all'interno di Rogoredo qualcosa e come abbiamo trovato una cosa nuova che è Santa Giulia per Rogoredo, così abbiamo trovato due ragazzi che sono nati a Rogoredo, sono fieri di Rogoredo, vivono a Rogoredo e abbiamo scoperto, anche se noi abbiamo un'età leggermente diversa, che sono seguitissimi dai giovani. Sono due youtuber, appunto ribadiamolo di Rogoredo che hanno scelto e ci tengono a vivere nel nostro quartiere Rogoredo Santa Giulia e sono i The Show. Il The Show è famosissimo, insomma, anche per chi lo è extra, si le ha appunto messi la sull'altare di quelli famosi e importanti, ma anche perché insomma sono molto molto seguiti su YouTube, fanno dei video davvero interessanti, tanti molto milanesi anche nel loro essere, ancora di più, anzi scoprire che in realtà è molto di Rogoredo, quindi... Esatto. Rogoredesi. Sì, giusto? Sì. Cosigliere Bianco mi dà lo ok, perché Stefano è anche un consigliere di municipio, tutto nel municipio 4, quello appunto in cui c'è Rogoredo e Santa Giulia, è interessante questa cosa anche, cioè una volta c'è Rogoredo e Santa Giulia, adesso finalmente c'è Rogoredo e Santa Giulia. Sì, possiamo dire che ha acquisito nella definizione proprio dei quartieri anche una sua autonomia, però questa l'ha rafforzata, cioè ha dato proprio l'idea che il nostro quartiere è composto nominalmente di San Martino, perché bisogna ricordare anche San Martino, Rogoredo e Santa Giulia, però di fatto è un unicum anche come termine proprio di partecipazione di comunità e questa corsa vuole rappresentarlo. Stiamo aspettando anche l'arrivo di ulteriori nuovi residenti nel quartiere di Merezzate, se vogliamo dare già un nome di quartiere, ma che attualmente è una connotazione solo di luogo, c'era una storica cascina che in parte è ancora presente e ci sarà l'arrivo di nuove famiglie, quindi io credo che la nostra comunità si allarghi, ma senza perdere di vista quella che è la sua identità anche locale e si proietta anche in un futuro che poi è l'estensione sulla parte dell'area nord di Santa Giulia, che anche quella dovrebbe arrivare a breve. Ecco, è molto interessante come comunque siete riusciti a fare un piccolo miracolo, nel senso che in un quartiere residenziale, o comunque prettamente residenziale, siete riusciti a creare quello che però è tipico magari di situazioni più storiche magari, o quello che un po' non so è successo anche a Nolo adesso con una grande appartenenza dal territorio, anche ma soprattutto come avete fatto quello di dare questa appartenenza anche i nuovi arrivati, cioè i nuovi arrivati si sentono mai parte di Rogoredo Santa Giulia. Come si fa che ha un comitato di quartiere e comunque un'ombus diciamo su cui poter lavorare così bene? Beh, molto conta la risposta del territorio, la risposta delle persone. Noi, a me non mi ci metto anch'io come Roberto, siamo i nuovi arrivati a Rogoredo, anche se io ci sono nato perché sono nato proprio a Rogoredo e poi dopo mi sono spostato in un contesto limitrofo. Poi ci sono ritornato con Santa Giulia e altri appunto come Roberto arrivano da altre zone di Milano ma comunque sono i nuovi cittadini di Santa Giulia che però non hanno costituito diciamo un elemento di divisione o di diverso contesto ma hanno cercato di inserirsi con la loro peculiarità, con delle case che sono più moderne, che hanno comunque una dinamica diversa a livello urbanistico ma che hanno le stesse connotazioni invece a livello di esigenze delle famiglie, di opportunità che si cercano nel nuovo abitare e anche di condivisione. Poi purtroppo dobbiamo anche condividere i problemi, questo perché sarebbe meglio non avere dei problemi però anche su questo si è vista una forza proprio di quartiere nel riuscire in qualche modo a superare, avere una prospettiva o non piangersi solo addosso. Un quartiere dicevi che va in espansione, tutta la parte nord in realtà ancora oggi non c'è nulla ma in teoria dovrebbe arrivare tanta tanta roba tra cui anche in realtà il famoso palazzetto dello sport che se incrociamo fino a 24 giugno. Mosanna ci diranno poi se, quindi le incrociamo, sareste ben contenti voi immagino? Sì sì, saremmo appunto delle Olimpiadi Invernali del 2026 che appunto potrebbero essere svolte a Milano e Cortina e proprio Santa Giulia sarebbero uno dei luoghi principali perché proprio il palazzetto dell'Hockey proprio lì che in realtà l'abbia costruito comunque, quindi insomma anche questo è interessante, vedere come in realtà non si spengono soldi per l'Olimpiadi, ma anzi sei mai sull'accelerazione per i progetti che sono già sul tavolo, lì si rivede ancora tutto, cioè il vostro quartiere sarà da rivedere ancora tutto un'altra volta. È già stato rivisto, diciamo che c'è stata una variante proprio quella del 2017 presentata e vista anche in consiglio, sicuramente ci sono degli ulteriori aggiustamenti però come tu hai ricordato l'Arena non porta un qualcosa di innovativo nell'ultima versione della variante, semplicemente si declina un utilizzo anche nel corso delle Olimpiadi, quindi un po' più personalizzato, ma l'Arena era già prevista e ci sarà, era la sostituzione. Cosa vuole dire appunto un luogo del genere per un quartiere come il vostro? Ma sicuramente vuole dire andare a completare, andare a allargare quella che era già un'idea per cui noi eravamo arrivati, nel senso che è stata un po' una sorpresa fin dall'inizio, cioè noi stiamo parlando, io vi dico soltanto che mi sono iscritto fa i primi nel 2002, dieci anni compie quest'anno il comitato di quartiere, quindi 2009-2019 e dieci anni di aspettative di... Cioè ricordiamoci, facciamo un'altra cosa, cioè l'intervento è d'inizio, su Santa Giulia di che lo parliamo? Cioè doveva essere consegnato tutto nel 2006, siamo passati al 2009 con tutte le vicissitudini che abbiamo messo dieci anni per... esatto, e adesso stiamo aspettando l'area nord. Noi siamo messi molto bene nel senso che abbiamo quasi tutti i servizi, stanno costruendo finalmente e ci stanno consegnando proprio in concomitanza della Stralogore da Santa Giulia quasi una nuova scuola media e quindi per un bacino d'utenza che sappiamo già e ci hanno già promesso, un anticipo anche per l'area nord, ne abbiamo già discusso, quindi non è notizia ufficiale che ci saranno altre scuole, anche perché per incominciare ad arrivare... Sì, dovrebbe arrivare finalmente anche il tram, dovrebbe allungare, quando poi ci sarà l'area nord è completata, giusto? Sì, sì, dovrebbe arrivare fino all'arena per essere anche... Infatti quindi insomma, è un luogo, dicevi l'arena, è un luogo importante quindi per un quartiere che... Un luogo importantissimo. Sì, poi lo aspettavamo già, non c'è? Noi lo aspettavamo già perché già dieci anni fa sui vari social che abbiamo creato, che viaggiano tantissimo nel nostro quartiere perché accomunano, però abbiamo una caratteristica che poi riusciamo anche a trovarci fisicamente. Quella non è solo per tutti quelli che, anzi, noi come comitato, come tutti i partecipanti anche alla corsa, cito quelli nuovi di quest'anno perché ci siamo raddoppiati anche in quel senso, a parte l'associazione sportiva e la parrocchia che storicamente ha sempre partecipato, abbiamo anche l'Arcimondini quest'anno, le Coppe che hanno voluto partecipare anche loro e che ci aiutano, Verde Festival che è storico come patrocinio e come partecipazione, e poi, vabbè, quest'anno abbiamo avuto, devo anche citare poi, andrò alla tua domanda, il main sponsor di quest'anno che è Milano Santa Giulia che è proprio il costruttore che ha voluto dare un segno. L'anno scorso, non è un segreto, va a Moscai, quest'anno per varie vicissitudini, anche un po' per alternarci perché vogliamo dare spazio a tutti. Così potete tornare al prossimo anno a chiedergli soldi, perché non lo siete stanti, ecco, diciamo che... Sono sempre realtà del nostro luogo per l'indesione. Allora, diciamo, visto che sponsorizzarci, visto che cogliamo l'occasione, la Strarogoredo praticamente è più un affare per chi viene a prendere il biglietto, perché abbiamo una maglia... Adesso facciamo la televendisa, abbiamo la maglia della Strarogoredo che è una maglia... Ai primi mille iscritti. Ai primi mille iscritti siamo agli sgoccioli ormai perché mancano tre giorni. No, si può ancora fare dove? Si può ancora fare, a questo punto siamo a giovedì o nei vari punti in oratorio o se no venite direttamente alla manifestazione e vi aspettiamo. Per soli 5 euro ancora per quest'anno abbiamo una maglia che è una maglia tecnica, e la sua pettorina, poi abbiamo una sacca, dei regali all'interno che ci ha dato Fittofarma come sponsor, dei buoni sconti e poi la festa continua perché come l'anno scorso abbiamo raddoppiato anche i posti per quello, l'oratorio che partecipa, abbiamo addirittura un buono sconto di 2 euro per andare a mangiare poi in oratorio. Non c'è solo la salamella ma quest'anno ci sono un sacco di proposte, quindi uno viene... Davvero davvero un affare. Per 5 euro è... Per 5 euro è... C'è qui per la casa la maglietta, la sacca, cioè... Fine dello spot pubblicitario ma è quello. Però per tenere in piedi una struttura di questo tipo serve comunque uno sponsor, non è... Facciamo, vorremmo fare l'impossibile, cominciamo a chi non è di Santa Giulia, venire a Santa Giulia, come possiamo fare? Allora... Mi chiedo, è l'impossibile oppure invece sono... No, è possibilissimo. Io ti dico, guarda, ti do questo aneddoto, spero che ci sia perché lo filmeremo insieme a The Show perché sarà, spero, una macchietta anche lui. Mi ha chiamato un certo massimo, adesso non mi ricordo, mi dispiace, non mi sono preparato il cognome da Foggia che ha fatto 555 maratone e viene apposta all'Astralogoredo per partecipare anche lui, mi ha contattato, la potenza di Facebook così, mi ha contattato direttamente e mi ha detto voglio venire all'Astralogoredo, come faccio? E avevo solo, gli ho tranquillamente detto via treno, abbiamo tutti i mezzi possibili e immaginabili, treno, passante, abbiamo la metropolitana che è la cosa più comoda per chi abita a Milano, fermata proprio a Rogoredo e lì a pochi passi, davanti alla piazza Santa Giulia che è proprio attaccata a Sky praticamente appena si esce e bicicletta, tranquillamente raggiungibile, abbiamo tutti gli stalli nuovi che ci hanno appena portato e 600 posti auto perché abbiamo anche per tutto il giorno costa 2 euro, il posteggio ATM, quindi non ci sono scuse. Non ci sono scuse. E in più, abbiamo visto il video, siamo in area B, bisogna ricordare. Siamo in area B, però è sabato, sabato adesso no, sabato non c'è, non c'è neanche l'area B, siamo completamente raggiungibili e niente, speriamo che vengano tantissime persone a conoscerci. Il nostro nome, il nostro quartiere è stato fin dopo bistrattato negli ultimi periodi, sempre legato al boschetto, sempre legato a droga e degrado, però so che qualcosa sta cambiando e sta cambiando in meglio, giusto? Che lo consigliere in questo caso? Assolutamente, bisogna sempre fare una premessa opportuna, il nome di Rogoredo viene associato al boschetto impropriamente perché non c'è un boschetto di Rogoredo, c'è un parco nella zona di Rogoredo, viene associato perché c'è invece la stazione di Rogoredo, la stazione di Rogoredo è stato un veicolo ottimale per traslare lì anche questo commercio. legale, perché è facilmente raggiungibile. Lo sviluppo di quello che viene chiamato boschetto di Rogoredo in realtà è all'interno di un parco, un parco molto esteso, che è il parco di Porto di Mare. Nel parco di Porto di Mare, grazie al supporto di Italia Nostra che è stata coinvolta direttamente dal Comune di Milano, c'è stata un'opera di riqualificazione partita da più di un anno che si svolge in un periodo previsto di circa cinque anni che sta portando assolutamente di buoni risultati. Ovviamente è un'opera di riqualificazione ambientale legata proprio ai temi boschivi e quindi di ricostruzione dell'habitat o valorizzazione dell'habitat già esistente, con per esempio, per rimanere nello sport, una bellissima pista di mountain bike che è stata realizzata proprio ultimamente, con per rimanere ai fatti più recenti la piantumazione di querce anche da parte degli alpini che hanno dato un loro contributo in occasione della loro presenza anche prima proprio della dunata, hanno fatto questo supporto molto interessante anche in termini di riqualificazione ambientale e poi con il supporto ovviamente delle forze dell'ordine che hanno intensificato la loro attività per cercare di eliminare o perlomeno circoscrivere il fenomeno dello spaccio, ma soprattutto anche, e questo a partire da quest'anno, con un'attività di forte recupero delle persone, perché ci dobbiamo ricordare che di fronte a questi grossi fenomeni c'è anche il dramma personale delle persone che purtroppo subiscono questa dipendenza e sono vittime di questo commercio illegale e questo grazie invece a una, lo dico in termini invece di politica, a una bella politica, quella che ha visto insieme sia la regione che il comune che tutte le associazioni coinvolte e poi a livello locale ovviamente anche il municipio per trovare una linea di recupero dei giovani e dei meno giovani frequentatori di quest'area attraverso per esempio il supporto della Croce Rossa, giusto per citare forse una delle più note realtà associative che sta partecipando ad un progetto, ma anche tante altre associazioni proprio di settore che stanno effettivamente dando un buon risultato, un buon riscontro e si stanno impegnando insomma su questa battaglia. Roberto, tu dicevi a me che sei uno dei primi a iscriverti, anche i social, anche fossi uno dei primi nuovi abitanti di Santa Giulia, perché andare a vivere a Santa Giulia? Se facciamo uno spot ad arrivare a Santa Giulia e a S.P.A. stanno felici o perché no? Se il cliente hai deciso di cambiare idea. Allora, prima di tutto perché sei creato quell'humus che dicevi te e quindi anche in questi giorni abbiamo avuto delle vicissitudini fra vicini di casa che per fortuna si sono concluse bene, quindi un aiuto che c'è stato fra tutti noi per cui stiamo anche un po' riscoprendo quello che sono i social come aiuto e come conoscenze. Quindi siamo veramente un po' come Rogoredo, nel senso che siamo un piccolo paese in cui accogliamo e siamo entusiasti di accogliere tutti i nuovi vicini. Quindi abbiamo un bellissimo parco, quel parco Trapezio, dove la mattina si ritrovano per esempio abbiamo avuto per anni, adesso non è più il mio periodo, ma mamme che si incontrano quei passeggini tutti i giorni e quindi creano delle sotto associazioni, cioè delle... Se il clima aiutassero succederebbe anche adesso, questa settimana abbiamo avuto un po' di clima strano. E vivere a Santa Giulia ti offre, prima di tutto quello che vi ho detto all'inizio, una comodità per andare al lavoro, io sono dieci anni che non uso più la macchina per andare al lavoro, la usiamo pochissimo solo nei weekend, quindi il box e quindi non ci sono problemi. La viabilità, che è in via di miglioramento, adesso è una questione un po' particolare perché stiamo aspettando da un po' di tempo, anzi un appello, stiamo aspettando le strisce blu che regolamentino un po' tanto, però contemporaneamente è anche una vivibilità, perché comunque avere un colosso, lo ripetiamo, come Sky, aiuta anche avere 3.000 persone che continuamente frequentano anche i nostri negozi, le nostre vie, quindi ci permettono di mettere in luce anche quelle che sono queste piccole problematiche di vita, perché se ne fossero di più grosse. Per fortuna abbiamo il problema del parcheggio. Sto nella porta aperta qui, siamo in zona San Siro, diciamo anche lo stadio, sappiamo bene cos'è questo problema. E poi appunto tutto quello che sta per avvenire anno per anno capita. Appunto una scuola che sarà sempre più vicina a noi, un tram che sta per arrivare, un'area nord che ci permetterà sicuramente di fare, è in edizione della Starlogoredo, sempre più lunghe e sempre più in luoghi belli da visitare. Con un arrivo dentro l'arena magari prossimo. Con un arrivo dentro l'arena o... Non c'è da pensare. Con un parco, peraltro, che sarà grande quasi come il parco di Sempione, mettendo insieme tutte le aree verdi, anche quelle interne, negli edifici. Un grande polmone anche per Milano, che sicuramente ne ha sempre più bisogno. Roberto, ricordaci allora poi l'appuntamento per la Starlogoredo Santa Giulia. Allora, ci sarà il sole, ormai è confermato, quindi la cosa che interessa più a tutti è il tempo, perché abbiamo avuto settimane di pioggia, anche l'ultimo weekend abbastanza travagliato. Per fortuna, anche perché avevamo un'unica data. Questa era... Per mille persone spostarle non sarebbe stato facile. Comunque, sabato 25 maggio, a partire dalle 15.15.30. Se dovete iscrivervi, venite giù il prima possibile, perché avremo sicuramente tantissime adesioni. Animazione prima della corsa, partenza ufficiale alle 17.00. Tantissime sorprese, l'ultima, che dico al volo anche della scuola, che ha voluto di quartiere, che ci omaggerà con un coro fatto dai ragazzi pre-gara. Quindi tutti insieme si partirà, non sappiamo ancora su quale note, però su un coro ufficiale fatto da più di 50 ragazzi della scuola elementare, quindi anche loro a mettere il timbro su questa corsa. E poi non sappiamo se aver paura o no, ma tante sorprese da parte di The Show. Anche per noi sono... Sarebbe interessante, appunto, vedere come i nati The Show, appunto, del quartiere e interpreteranno a loro maniera sicuramente la Strarogredo Santa Giulia di quest'anno. Esatto. E niente, vi aspettiamo numerosi. Ricordiamo comunque che c'è anche un gruppo, un sito in... Un gruppo Facebook, giusto, per avere le ultime informazioni. C'è una pagina Facebook, Strarogredo Santa Giulia, dove si possono vedere tutti gli ultimi punti iscrizioni, ma appunto vi suggerisco di venire direttamente lì in loco, dove ci sono tante notizie e se siete nella zona e volete venire a correre ci sono anche gli SG Runner, che è appunto questo gruppo che abbiamo fondato e che partecipa in maniera molto attiva alla Strarogredo, ma tante altre iniziative se volete seguirci anche durante il Natale facciamo una corsa apposta. La caratteristica che abbiamo è quella che ci svegliamo abbastanza presto. Vedo, non so, mi ha buttato l'occhio sui media partner, credo che sia, no? E vedo che c'è una famosa scuola di Milano, lì vicino all'Olde Steiner, giù sul Lizzo. Esatto. Se ve lo male, da lontano vedo il logo, insomma, quasi ex studente, quindi capisco. È interessante questa, insomma, non è proprio praticamente lì, però in realtà non è molto lontano. È in zona, abbiamo la fortuna di avere un professore, che è l'italiano, che è nel nostro gruppo di runner, e ci teniamo a tenerli perché sono proprio i ragazzi che l'anno scorso hanno ideato il nuovo logo. Questa T di Strarogoredo è l'ora, e poi ci aiutano, ci hanno iniziato con la grafica e con tutta... Vabbè, c'è stata anche Camilla, una nostra amica grafica. Sì, è una base di livello, ho fatto vedere come appunto riuscite a... Coinvolgere. Con il territorio, coinvolgere tutte le realtà, anche nel loro piccolo, che possono dareci molto... Diciamo che è molto bello avere un gruppo di questo tipo, come i nostri amici che corrono, ma come il comitato di tutto, perché si creano sinergie veramente all'interno del quartiere. Basta veramente chiedere e in qualche modo si trova l'aiuto delle persone. Avremo sul percorso, solo per pensare cosa vuol dire organizzare una gara di questo tipo, 27 persone impegnate con la bandierina a cercare di controllare il traffico. Milano non è facile nei quartieri, abbiamo un sacco, solo per la 6 chilometri, quindi speriamo nell'area nord per poterla allungare in mezzo al verde e avere più gente che corre e meno... E meno sbattiratori. Esatto. Va bene, ragazzi, grazie davvero per essere qui con noi. Roberto Revizza e Stefano Bianco, Stragoredo Santa Giulia, manca pochissimo, andate, vedete tutto poi nella nostra diretta, trovate tutti i link per le ultime informazioni, ma comunque affrettatevi per il somma, mancano davvero pochissime ore alla partenza. Sempre bello avervi qui per ricordare di questa importante manifestazione e poi a questo punto fate sapere che per il prossimo anno cosa avete in mente. Esatto, io comunque come l'anno scorso ci tengo, ti lascio la maglia quest'anno ufficiale a venire, non portare la telecamera, fai niente, tu vieni lo stesso a noi, no? Magari per il dopo. Il dopo è sempre molto interessante. Una birra insieme. Il dopo è sempre molto interessante. Davvero, grazie mille. Grazie a te. Grazie anche a voi che vi avete seguito, l'appuntamento con Good Morning Milano, torna come sempre domani, sempre qui alle 12.30 su Milano. All News, grazie mille, arrivederci. A presto.